Ed eccoci all'US Open, AirTour Esche Stadium, il campo centrale, il centrale più grande del mondo, il più capiente ovviamente. Questo è il circolo, i risultati live, i finali lì, i gadget, lo store, lo spazio per mangiare. Sono le 7.30 di sera e stiamo per entrare per vedere Sharapova contro Carla Suarez e Navarro. Ottavo di finale. Live score. 1.1.30 pari.